Ciao a tutti, io sono Andrea e vi do il benvenuto sul mio canale. Spero vi piaccia il mio nuovo video. La storia che voglio raccontarvi oggi inizia nel 2002 nella città di Soham, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito, una tranquilla città rurale con una popolazione di poco più di 10.000 abitanti. È una storia che ha scioccato non solo la piccola comunità, ma l'intera nazione. La tranquillità della città venne spezzata un tardo pomeriggio d'inizio d'agosto, quando due bambini di 10 anni sparirono nel nulla. Le ragazze erano compagne di scuola e migliori amiche, trascorrevano quasi tutto il tempo insieme e amavano la vita all'aria aperta. Si completavano a vicenda in quanto una tranquilla e posata e l'altra estroversa e vivace. Una cosa che le rendeva ancora più vicine tra loro era il loro amore per lo sport, in particolare per il calcio. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento ed un like se il video vi ha interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Domenica 4 agosto del 2002 era una calda giornata estiva e le due amiche di 10 anni Holly Wells e Jessica Chapman avevano progettato di trascorrere, come sempre, il loro tempo insieme. Avevano anche deciso di vestirsi allo stesso modo con la maglia di calcio della loro squadra del cuore, il Manchester United. Le magliette riportavano sul retro il nome del loro giocatore preferito, David Beckham. Holly aveva chiesto a sua madre di scattare loro una foto mentre entrambe indossavano le magliette rosse per conservare un bel ricordo della loro giornata. Le ragazze che vengono immortalate raggianti in quella che purtroppo diventerà loro malgrado una foto famosa, la loro ultima foto. Le bambine avevano trascorso il pomeriggio ad un barbecue organizzato dalla famiglia di Holly per festeggiare il loro ritorno in città dopo due settimane di ferie. Verso le 18 e 15 però le due decisero di allontanarsi di nascosto da casa, forse per comprare dei dolci o per il semplice gusto del proibito. Una telecamera di videosorveglianza le immortalò intorno alle 18 e 30 scorrazzare felici nei pressi di uno dei negozi della zona. Ore dopo, quando la madre di Holly le chiamò perché salutassero gli ospiti che stavano andando via, si rese conto che le ragazze non erano al piano di sopra a giocare al computer, come aveva pensato lei non vedendole più alla festa, e si accorse anche che in realtà non erano proprio in casa. Inizialmente la donna non si preoccupò più di tanto perché sapeva che le bambine erano responsabili e sarebbero tornate prima del coprifuoco, fissato per le 20 e 30. Quando però ben oltre quell'orario, poco prima delle 22, non erano ancora tornate a casa, i genitori di Holly e Jessica allertarono le forze dell'ordine. La ricerca di Holly e Jessica è stata una delle più vaste nella storia della Gran Bretagna. Ha coinvolto più di 400 agenti di polizia ed un incredibile numero di volontari. Centinaia di cittadini si unirono alle ricerche. Sembrò a tutti improbabile che le bambine si fossero semplicemente perse perché conoscevano bene la zona e la maggior parte delle persone della zona le conoscevano e le avrebbero aiutate a ritrovare la strada di casa. C'era decisamente qualcosa di sinistro nella loro sparizione. La notizia della scomparsa delle due bambine si diffuse attraverso i media e la loro foto nelle loro maglie di calcio, scattata poche ore prima della loro scomparsa, fu fatta circolare attraverso i notiziari locali e nazionali. Nonostante le circa 14.000 segnalazioni ricevute da tutto il paese, delle ragazze non c'era più traccia. Lo stesso David Beckham fece un appello per il loro ritorno, pregando l'eventuale rapitore di liberarle. La famiglia di Holly contattò per disperazione anche un sensitivo, un tal Dennis McKenzie, perché li aiutasse a localizzare le bambine. McKenzie però, con grande umanità e delicatezza, un vero baronetto comunicò loro di avere percepito che Holly e Jessica non erano più vive. E non solo. Disse che erano state uccise la notte stessa in cui erano scomparse e che i loro corpi erano stati trasportati in un altro luogo con un'auto rossa e buttati in una specie di fossato. Personcina squisitissima, lo vedo veramente bene a lavorare al telefono amico. McKenzie fu in grado anche di dare dei dettagli sul colpevole, descrivendolo come un uomo dai capelli castani, con un basso quotiente intellettivo. E dovremmo ammettere tra poco, nonostante non si possa e non si debba credere a queste ciarlatanerie, che su alcune cose il sensitivo ebbe ragione, soprattutto riguardo l'ultima profezia riguardante la poca intelligenza del colpevole. Tra i componenti della squadra di ricerca, formata da volontari, attirò l'attenzione degli inquirenti un personaggio, Jan Huntley, custode della scuola secondaria locale, il Soham Village College, e fidanzato di una delle maestre della scuola frequentata dalle bambine, Maxine Carr. L'uomo mostrava un insolito interesse ed un anomalo coinvolgimento emotivo verso il caso e rilasciava interviste a destra e a manca alla stampa dicendo di sentirsi in colpa per essere stato l'ultima persona ad aver parlato con le bambine. Disse che Holly e Jessica, infatti, erano passati davanti a casa sua intorno alle 18.15, ma lui, dopo aver scambiato con loro solo due parole, li aveva lasciate andare via da sole, incontro a chissà quale terribile destino. In un'intervista alla TV locale disse «Continuo a rivivere nella mia testa quella conversazione e a pensare che forse avrei potuto tenerle qui un po' più a lungo e forse cambiare il corso degli eventi». Queste affermazioni resero gli investigatori sempre più sospettosi su di lui e li portò ad effettuare delle indagini approfondite sul suo passato. Alle bambine era stato insegnato di non parlare con gli estranei e questo fece ritenere alla polizia che fossero state avvicinate da qualcuno che conoscevano e di cui si fidavano e chi meglio di Ian Antley, corrispondeva a questa descrizione. Ma conosciamo meglio questo ragazzo così premuroso. Ian Kevin Antley è nato a Grisby, nel nord-est del Lincolnshire, in Inghilterra, il 31 gennaio del 1974. Da una famiglia della classe operaia, primo figlio di Kevin e Linda Antley, malato di asma, Ian, a scuola era stato spesso vittima di bullismo, cosa che lo costrinse, ormai esausto, prima a cambiare scuola all'età di 13 anni e successivamente nel 1990 ad interrompere definitivamente gli studi, preferendo il lavoro. Dopo aver lasciato la scuola, però Ian sviluppò più che per il mondo lavorativo un interesse morboso per le ragazze più piccole di lui. Nel dicembre del 1994 incontrò la 18enne Claire Evans, che sposò dopo poche settimane di frequentazione. Il matrimonio fu di breve durata perché Claire lasciò Ian pochi giorni dopo il matrimonio, scegliendo di andare a convivere col fratello minore di Ian, Wayne, e complimenti al fratello e complimenti alla chianina. L'uomo, naturalmente furioso, rifiutò di concedere il divorzio a sua moglie per impedirle in questo modo di sposare suo fratello, e qui ci sarebbe da discutere se per odio verso la donna o per amore verso il fratello. Dopo la fine del suo matrimonio, Ian divenne praticamente un nomade, passando da un appartamento in affitto all'altro e cambiando spesso lavoro. Ebbe una serie di relazioni, una delle quali con una ragazza di 15 anni, Katie Bryan, con la quale ebbe una figlia nel 1998. Una successiva indagine rivelò che tra il 1995 e il 2001, Ian ebbe contatti intimi con ben 11 ragazze minorenni, di età compresa tra 11 e 17 anni, e tanto per non farsi mancare nulla, il 17 gennaio del 1998 Ian fu accusato di aver rapinato la casa di un vicino, e nel maggio del 1998 dello stupro di una ragazza di 18 anni a Grisby. Insomma, il ragazzo non era stato con le mani in mano. E qui, come diceva Lubrano, la domanda nasce spontanea. Ma perché questo era ancora in giro? Perché non sta passando la sua giovinezza e vecchiaia nelle patrie galere? Ma forse avevano deciso che si poteva recuperare. Nel febbraio del 1999 incontrò la 22enne Maxime Carr. I due andarono a vivere insieme dopo due settimane e nel 2001 si trasferirono nella città di Littleport, dove Ian trovò lavoro come custode presso un college locale e Maxime come assistente all'insegnamento presso la stessa scuola elementare frequentata da Holly e Jessica. La volpe ha trovato posto come custode del pollaio. Il viso di Ian ormai appariva quotidianamente in tv. Anche la stampa stava pian piano arrivando a sospettare di lui. Inoltre l'uomo stava chiaramente mostrando i primi segni di cedimento. Stava perdendo peso, aveva profonde borze sotto gli occhi e, cosa ancora più strana, durante le numerose interviste che continuava a rilasciare, cominciò a parlare delle bambine al passato. Come ormai sanno tutti gli appassionati di crime, il cervello umano è, diciamo per natura, portato ad essere ottimista, quindi fino a che non ha recepito come definitiva l'informazione che una persona è deceduta, parla di lei sempre al presente, mai al passato. A causa della sua incapacità di stare lontano dai riflettori, finì per attirare l'attenzione delle persone della sua città natale, Grisby, che lo riconobbero e cominciarono a raccontare ai media le storie oscure sul suo passato e la sua ossessione per le bambine. Un detective durante una di queste interviste finalmente notò tre graffi abbastanza profondi sul suo viso che Ian giustificò attribuendoli al suo cane che lo aveva graffiato mentre giocavano. Questo naturalmente diede la spinta agli investigatori ad approfondire le indagini su di lui. Un'analisi forense determinò che il telefono di Jessica, prima di essere spento poco dopo le 18.37, aveva agganciato una cella telefonica vicino al Sohan Village College e soprattutto vicino alla casa di Ian e Maxine. Stava rapidamente diventando ovvio per la squadra investigativa che Ian Huntley sapeva più di quello che stava dicendo sulla sparizione delle bambine e, nel peggiore dei casi, ne era in qualche modo coinvolto. La svolta arrivò quando, durante una seconda perquisizione, in un magazzino al Sohan College, luogo di lavoro di Ian, gli investigatori trovarono qualcosa all'interno di un bidone giallo, i resti un po' carbonizzati ed un po' tagliati di due maglie da calcio rosse. Ovviamente non c'era alcun dubbio che fossero appartenute alle bambine scomparse e cosa significasse quella scoperta. Più tardi, lo stesso giorno, il 17 agosto del 2002, 13 giorni dopo la scomparsa delle ragazze, un guardiacaccia di nome Kate Pryor scoprì i corpi delle ragazze sistemati l'uno accanto all'altro, vicino ad una base aerea del Suffolk, nei pressi della casa del padre di Ian, a una ventina di chilometri di distanza, da dove vivevano le ragazze. I resti erano lì da 13 giorni e Ian aveva cercato di farli sparire con il fuoco, inutile dire quale spettacolo triste ed atroce fossero. Fu un momento straziante per le loro famiglie e per tutta la nazione. Il medico legale non riuscì a determinare la causa esatta e l'ora della morte, ma indicò si potesse trattare con molta probabilità di asfissia. Con orrore di tutti fu dichiarato anche che, purtroppo, almeno una delle due bambine aveva subito violenza ed avete capito che tipo di violenza. Il ritrovamento toccò l'intera nazione ed in particolare l'ambiente del calcio, sport di cui erano particolarmente patite Holly e Jessica. Il loro onore, tutte le partite di calcio del Regno Unito, rispettarono un minuto di silenzio. David Beckham segnò un gol e lo dedicò a loro tra la commozione generale. La polizia arrestò Ian per l'omicidio e il rapimento di Holly e Jessica e Maxim per complicità e intralcio alla giustizia perché aveva fornito un alibi falso al compagno per la notte degli omicidi. I due furono messi in stanze separate mentre veniva effettuata una perquisizione nella loro casa, che però era stata meticolosamente pulita. Anche l'auto di Ian, tra parentesi una fiesta di colore rosso come aveva indicato il baronetto sensitivo, fu esaminata e si scoprì che aveva quattro pneumatici nuovi di zecca. La polizia rintracciò il meccanico in cui Ian aveva fatto cambiare gli pneumatici e l'impiegato dichiarò che l'uomo aveva chiesto che fossero cambiati tutti, anche se erano ancora nuovi e tutto questo solo un giorno dopo che Holly e Jessica erano scomparse. L'auto aveva anche tracce di terriccio corrispondente a quello del luogo in cui erano state trovate le bambine. Gli esperti forensi trovarono infine il DNA di Ian sulle magliette rosse. La polizia era riuscita a mettere insieme abbastanza prove contro di lui. Maxine Carr, a questo punto, cambiò completamente la sua versione, ammettendo di aver mentito per proteggere Ian perché conosceva il suo passato e non voleva che fosse ingiustamente accusato di un crimine così orribile. Maxine aveva riferito che quel giorno, rientrando dal lavoro, si era accorta che Ian aveva stranamente lavato le lenzuola del loro letto, ma aveva pensato soltanto che fosse andata a letto con un'altra. Qui veramente, se non fosse tragico, ci sarebbe da ridere. Tu, moglie, rientri in casa, trovi le lenzuola cambiate da tuo marito, che lascia abitualmente i calzini vecchi per casa, e pensi, ah sì, vabbè, sarà andata a letto con un'altra. Ma che volete che vi dica? Io so solo che se succedesse a me sarei lo scomparso della prossima storia, che purtroppo però non racconterei io. Comunque. Ian, intanto, ebbe un provvidenziale improvviso crollo emotivo, una specie di crisi di nervi che costrinse la polizia a farlo sottoporre ad una perizia psichiatrica. Ian rimase ricoverato presso il reparto psichiatrico del Rampton Hospital e posto sotto stretta sorveglianza. Tutte le udienzie contro di lui furono temporaneamente sospese, finché un giudice, dopo 50 giorni di valutazioni da parte di esperti, stabilì che Ian Huntley era idoneo ad essere processato e l'uomo fu trasferito in carcere. Il suo processo, e quello di Maxine, iniziarono nel novembre 2003 a Londra. Ad oggi non è chiaro come Ian Huntley abbia tirato le bambine a casa sua, ma si pensa che abbia abusato della fiducia e dell'amore che avevano per Maxine e probabilmente aveva promesso loro che avrebbero potuto vederla all'interno della casa. Le ragazze si erano fidate di lui perché probabilmente l'avevano riconosciuto come il compagno della loro maestra. Quello che era successo dopo non fu mai appurato con certezza, ma di certo non cambiava il terribile epilogo. Al processo, nonostante in precedenza avesse negato qualsiasi coinvolgimento negli omicidi, Ian improvvisamente ammise che le bambine erano effettivamente morte in casa sua, ma affermò che entrambe le morti erano state causate da un tragico incidente. Nel tentativo di aiutare la piccola Holly, che perdeva sangue dal naso, l'aveva invitata ad entrare nel suo bagno, dove l'aveva accidentalmente fatta cadere nella vasca da bagno, che era piena perché aveva appena fatto il bagno al cane. Lì la bambina era annegata, aveva poi sempre accidentalmente soffocato Jessica quando la piccola aveva iniziato a piangere e a gridare, l'hai spinta, l'hai spinta. Quando aveva capito che la bambina stava per scappare, lui aveva capito che non poteva lasciarla andare via. Qui veramente, ma che gli dice a un tipo così, che magari mentre ti racconta questa storia ti guarda negli occhi cercando uno sguardo magari di inconforto per un povero maniaco sfortunato. Idiozia allo stato puro. Jan sostenne di aver telefonato alla sua compagna Maxine quella sera per raccontarle cosa aveva fatto. Dopo averla informata che intendeva confessare, lei lo aveva esortato a non dire la verità perché era preoccupata di perdere il posto di lavoro come insegnante. Al controinterrogatorio l'accusa descrisse giustamente questa versione come spazzatura, anche il patologo forense il dottor Nathaniel Carey rispinse questa storia definendola in modo più gentile del tutto non plausibile. Durante il processo fu stabilito dai pubblici ministeri che il movimento degli omicidi era sessuale, qualcosa che certamente si collegava al suo passato, cosa supportata dal fatto che Jan aveva lavato le sue lenzuola dopo il misfatto. La testimonianza di Maxine Carr iniziò tre giorni dopo. Ovviamente la donna negò di essere stata a conoscenza dei crimini di Jan, se lo fosse stata non avrebbe mai mentito per proteggerlo. Al processo l'accusa descrisse sia Maxine che Jan come bugiardi patologici da condannare entrambi. Dopo cinque giorni di deliberazione la giuria respinse la teoria secondo la quale i ragazzi erano morti accidentalmente e il 17 dicembre 2003 Jan Antle fu riconosciuto colpevole di entrambi i capi d'accusa di omicidio e condannato a due ergastoli con un minimo di 40 anni di carcere da scontare in custodia. Avrà diritto alla libertà condizionale nel 2042 quando avrà 68 anni. In carcere si dichiara terribilmente dispiaciuto per quello che ha fatto e dice che non chiederà mai la libertà condizionale per rispetto delle famiglie di Olly e Jessica perché non merita di essere rilasciato e già secondo me qui c'è qualcuno che grida la redenzione sono sicuro. In prigione subisce diversi attacchi dagli altri prigionieri fino a che gli è stato assegnato un agente di protezione e trascorre grandi quantità di tempo in isolamento. Notizie recenti parlano di un suo improvviso desiderio di cambiare sesso e iniziare una nuova vita come Nicole. Chiede ad amici e parenti di poter ricevere degli abiti da donna e si trucca. Io spero vivamente che non la faccia pensando che magari le autorità in questo modo lo trasferiscano in carcere femminile perché pensa che verrebbe trattato meglio soprattutto dalle colleghe detenute perché altrimenti vorrebbe dire che questo è scemo ma scemo scemo scemo. Di certo non sarà facile ingannare con un semplice eyeliner i psicologi deputati a verificare se la sua richiesta sia dettata da un desiderio reale di cambiare sesso o il tentativo di migliorare la sua situazione. I stessi agenti penitenziari nutrono forti sospetti che voglia semplicemente ottenere un trattamento speciale in quanto donna. Anche Maxine fu arrestata ma fu assolta dall'accusa di complicità in omicidio e ricevette soltanto tre anni e mezzo per aver intralciato il corso della giustizia. È stata rilasciata a meno di sei mesi dopo alla sua condanna e posta sotto protezione della polizia. Nel maggio del 2004 ha ricevuto una nuova identità e nel febbraio del 2005 ha vinto una causa che le consente l'anonimato per tutta la vita perché la sua vita sarebbe stata in pericolo se qualcuno avesse scoperto la sua identità. Il giornate san ha riferito nell'ottobre 2011 che Carra ha dato la luce a un bambino e l'ordine di anonimato si è steso anche a lui quindi non sarà mai nominato pubblicamente e potrebbe non venire mai a conoscenza di chi è stata sua madre in precedenza. Molti credono che lei abbia svolto un ruolo importante negli omicidi e che non dovrebbe essere vista come una vittima e tanto meno che debba essere protetta. Anch'io la penso in questo modo la protezione per tuo figlio è sacrosanta ma per te no. Se volete fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Per oggi ci fermiamo qui e vi do appuntamento al mio prossimo video. Come al solito mi raccomando occhio a chi vi saluta sempre. Ciao a tutte e tutti.